voglio leggere con voi alcuni versi della lettera di Giacomo questa sera dei versi importanti e belli ma soprattutto che ci insegnano qualcosa di importante per quel che riguarda la nostra posizione oggi dinanzi a Dio in questo mondo come parte del regno di Dio noi siamo ambasciatori per questa ragione perché non apparteniamo a questo mondo la nostra cittadinanza è nei cieli quindi noi siamo momentaneamente in trasferta ma perché perché abbiamo qualcosa da fare qui capite cosa intendo alcuni tra noi per motivi di lavoro sono andati e vanno in trasferta ma perché uno andrebbe fuori perché starebbe lontano da casa se non per compiere un un lavoro e questo è molto interessante per noi è un è un concetto di cui dobbiamo essere consapevoli e voglia il Signore parlarci in questa sera insieme leggiamo Giacomo capitolo 4 a partire dal verso 13 leggeremo fino al verso 17 Giacomo capitolo 4 dal verso 13 così è scritto e ora a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città vi staremo un anno traficheremo e guadagneremo mentre non sapete quel che succederà domani che cos'è infatti la vostra vita siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce dovreste dire invece se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro invece voi vi vantate con la vostra arroganza un tale vanto è cattivo chi dunque sa fare il bene e non lo fa commette peccato ora sapete una delle regole fondamentali per leggere la Bibbia e comprenderla stiamo discutendo con questo di questo con alcuni credenti è quella di leggere sempre i versi nel suo contesto nel loro contesto cioè di che cosa sta parlando il capitolo che stiamo leggendo che cosa sta parlando il brano che stiamo leggendo la lettera o il libro che stiamo leggendo qual è l'argomento che sta trattando perché solo così possiamo realmente dare significato al verso al brano al capitolo che leggiamo quindi noi dobbiamo tenere sempre in mente il contesto in cui questo viene scritto e è solo così potremmo dare il giusto significato mai togliere un verso dal contesto perché altrimenti non riusciremo a capirne appieno il significato e una cosa invece molto interessante quando un verso nel suo contesto sembra non appartenergli a volte capita nella parola di Dio no leggiamo un paragrafo sembra che tutto fili liscio il discorso fila bene poi c'è un verso e non riusciamo a capire perché quel verso sta lì ma lì solitamente c'è un tesoro che va scoperto e che dà maggiore significato al brano che stiamo leggendo ora l'ultimo verso che abbiamo letto in questo brano non so se anche a voi sembra così un po stona dal dal contesto di questo piccolo paragrafo che abbiamo letto si sta parlando del fatto che dobbiamo essere sottomessi al volere di Dio che dobbiamo dire a Dio se vuole sottomessi al tempo poi dice chi vuole chi può fare il bene non lo fa commette peccato ma sembra che stia parlando del lavoro delle occupazioni del delle attività che si svolgono per sopravvivere in questo mondo perché parla così ecco cerchiamo di scoprirlo insieme perché qui c'è un grande tesoro che può essere raccolto da ciascuno di noi i personaggi che giacomo riprende e come riprende giacomo pochi riescono a riprendere sono credenti nei quali noi ci possiamo identificare senz'altro i quali programmano la loro vita ma i programmi della loro vita sono programmi che vengono fatti per gestire le attività che appartengono alla vita terrena cioè quella legata al tempo quindi il rimprovero si rivolge a persone che essendo credenti organizzano indipendentemente da Dio le loro giornate e le occupano ascoltate come mi spiego le occupano con il le attività che svolgono per la vita terrena e lo fanno indipendentemente da Dio lo fanno decidendo loro io farò questo andrò qui andrò lì farò là farò qui e poi dopo aver descritto che questo è male perché ogni cosa va sottoposta a Dio se Dio vuole faremo questo se Dio vuole ma qua giacomo non è che sta parlando della forma perché a volte anche questo capita nella nostra mente non sta dicendo voi non dovete dire farò andrò ma dovete dire se Dio vuole farò non è una questione di forma non è una questione di come la frase viene prodotta a Giacomo non interessa la forma lui è estremamente concreto non è che se cambia la forma in cui ci esprimiamo cambia qualcosa lui sta dicendo che la nostra vita dovrebbe essere sottoposta alla volontà di Dio e che in tutto ogni cosa deve essere guidata da lui non è solo una forma ma un modo di vivere la vita un modo di porsi nei confronti della vita un modo cioè per comprendere che la nostra vita da che siamo divenute nuove creature in Cristo Gesù non appartiene più a noi ma nel vero senso della parola perché perché noi siamo stati creati in Cristo per compiere le opere che lui ha precedentemente preparate per noi affinché le compiamo ora questa condizione prevede nel modo più assoluto che non siamo noi a gestire la nostra vita ma è Dio a gestirla qual era il grande peccato che Giacomo rimprovera a questi credenti e credetemi mi sento rimproverato anche io questa sera assieme a questi credenti e che essi erano padroni della loro vita padroni del loro tempo signori delle loro decisioni erano loro a decidere che cosa compiere quando compierlo e con quale fine compierlo ma non è questa la condizione dei figli di Dio non è questo voi non appartenete più a voi stessi perché perché foste comprati a prezzo e che prezzo il prezzo del nostro Signore Gesù Cristo in altre parole noi oggi apparteniamo a una realtà lo definiamo così ad un regno che è il regno del nostro Signore Gesù Cristo dove si pensa non con la mente di questo mondo cioè come pensavamo prima di incontrare il Signore ma si pensa come Cristo pensa e allora e allora tutto questo allora trova la sua chiarezza in nel verso 17 e adesso ve lo spiego se voi che siete chiamati a compiere le opere del vostro Dio per portare frutti eterni per la salvezza dei perduti per la gloria di Dio se voi che Dio ha lasciato su questa terra dopo averli ricreati in Cristo Gesù pensate e vivete la vostra vita come il mondo vive se voi non vi studiate di offrire la vostra vita offrire i vostri corpi come un sacrificio vivente per essere strumenti nelle mani di Dio chi compierà le opere di Dio chi potrà mai essere salvato chi porterà gloria e onore al nome del Signore se voi investite la vostra vita solo per i vostri interessi egoistici e non vivete per la gloria di Cristo Gesù e la salvezza dei perduti ecco che cosa intende il verso 17 se voi occupate la vostra vita con la vostra volontà con il vostro pensiero con le vostre egoistiche ricerche di soddisfazione essendo voi signori vedete qua Giacomo si esprime in maniera molto chiara invece voi vi vantate con la vostra arroganza perché dice arroganza perché perché i credente che non si studia di conoscere la volontà di Dio per la propria vita è lui che impone il proprio volere su quello di Dio e questo è arroganza agli occhi di Dio e questo allora comprendiamo perché il verso 17 Giacomo sta dicendo voi siete stati salvati e siete tenuti su questa terra per compiere le opere di Dio per essere testimoni della grazia e facitori del bene se voi invece la vostra vita la investite come il mondo con fini egoistici e dimenticate di offrire la vostra vita a Cristo allora voi che siete gli unici che sanno compiere il bene e non lo compiete voi commettete un grave peccato allora vedete il verso se spiegato così trova la sua collocazione esatta non è più stridente non è più confusa è chiaro anzi ci aiuta a capire il perché Giacomo si esprime così e allora veniamo a noi quale opera meravigliosa ha compiuto in noi Cristo Gesù il Signore una volta eravamo perduti cioè sotto l'ira di Dio eravamo come tutti gli altri figli di ira eravamo sottoposti al giudizio di Dio come questo mondo è sottoposto al giudizio di Dio e oggi meditavo quanto è tremendo come come possiamo solo immaginare che cosa proveranno i perduti quando compariranno dinanzi l'infinita maestà del nostro Signore e la sua perfetta santità e riceveranno come retribuzione tutta la potenza della sua ira che li condannerà per l'eternità qualcuno di voi può solo immaginare che cosa si prova è inimmaginabile eppure miliardi di persone oggi mentre io sto predicando si trovano in questa condizione ma qual è la ragione per cui io e te siamo qui eravamo in quella condizione ma la grazia di Dio ci ha raggiunto ci ha strappato ci ha trasportato dalle tenebre dalla morte e ci ha posto nella salvezza e ora noi qui con l'eternità nel cuore con la vita eterna nel cuore con la comunione con il nostro Signore Dio ci lascia qua su questa terra ma perché non ci ha portato direttamente su nel cielo perché questo mondo ha bisogno di testimoni quegli stessi testimoni che hanno portato te al Signore che hanno portato me al Signore che ci hanno liberato dalla morte ora quei testimoni siamo noi e Dio ha delle opere da compiere e questo questo mette su di me una grande responsabilità o io non posso dire andrò farò dirò deciderò mi muoverò qua io ho un compito eterno da svolgere io vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente eterno e allora comprendiamo perché io non posso più dirmi padrone delle mie scelte perché ma perché è un compito troppo grande che Dio mi ha affidato ho delle opere che portano il mio nome e quelle devono essere compiute o nell'eternità ci saranno delle conseguenze e allora e allora la domanda che mi sono posto considerando questa verità è stata questa ma se io ci mettessi tutta la forza di cui sono capace per mezzo della fede appoggiandomi nella potenza dello spirito che pure mi è stato dato io impegnassi tutto me stesso nella ricerca profonda dello spirito di Dio in preghiere in suppliche consumandomi in preghiera se io affondassi le mie radici sempre più profonde nella parola del Signore per poterne assaporare la gloria e la meravigliosa realtà del mio Dio se io potessi affondare il mio cuore nella sua presenza implorandolo di rivestirmi del suo spirito ogni giorno per rendermi capace di essere strumento nelle sue mani se cercassi le sue opere con coraggio e mi dedicassi con tutto il tempo che ho con tutta la forza che ho ad adempiere questo mandato sublime e glorioso per i quali i nostri fratelli nei tempi passati hanno dato la loro stessa vita che cosa potrebbe essere della mia vita quale frutto porterebbe e questo è quello che io mi sono chiesto e poi mi sono detto ma ci vorrebbe una potenza straordinaria ci vorrebbe una forza gloriosa ci vorrebbe qualcosa che trasformasse interamente la mia mente il mio agire e qual è verso di voi o di noi che crediamo l'immensità della sua potenza paolo agli efesini pregava affinché gli efesini potessero comprendere quale potenza opera in noi ci è stato dato lo spirito di dio ci sono state date le infinite e gloriose sue promesse la fedeltà del signore è a fianco a noi per sostenerci c'è qualcosa che potrebbe mai separarci dall'amore di dio o qualcuno che potrebbe impedire a un suo disegno di realizzarsi noi abbiamo la potenza di dio noi abbiamo la fede noi abbiamo ricevuto tutto ciò che è necessario per poter essere strumenti gloriosi nelle mani di dio io ci tenevo a predicarvi questo sermone perché io credo molto in questa chiesa io credo molto in questa chiesa credo che in questa chiesa ci siano credenti che sanno che cos'è la potenza di dio e di come dio sa rendere strumenti le nostre vite nelle sue mani io credo che qui ci siano credenti che sanno che quando ci si dispone con il cuore verso dio dio può fare cose straordinarie e gloriose e io ho piena fiducia fratelli ho piena fiducia non solo in dio ma ho piena fiducia in voi che dio possa fare meraviglia attraverso di voi ma io ve lo devo confessare oggi mentre ero raccolto in meditazione a un certo punto ho sentito il peso della santità di dio davanti a me e mi sono sentito a disagio perché non sto facendo il massimo che posso potrei fare molto più bene rispetto a quello che faccio non so se voi fate il massimo bene che potete se intercedete per questo mondo al massimo del tempo e delle vostre forze dei vostri sentimenti se vi dedicate a conoscere dio al massimo delle vostre forze delle vostre capacità o dei vostri della vostra fede o dei vostri sentimenti se dedicate tutto il tempo che avete per poter crescere nelle vie per servirlo secondo la guida dello spirito di dio in modo che potete andare la sera a letto magari stanchi e dire più di così non potevo fare bene io spero che voi lo possiate dire ma io non lo posso dire perché mi rendo conto che potrei fare molto di più e che le conseguenze della mia pigrizia sono eterne ed io non me lo posso permettere perché perché io sono stato creato in cristo gesù per compiere le opere che lui ha preparato di canzi a me non quelle che io ho preparato di canzi a me andrò lì farò lì dirò questo andrò là quelle che lui ha preparato perché io sono servo di cristo gesù non servo del mio egoismo non servo dei miei piani non servo della mia volontà perché cristo grazie a dio ha creato nei suoi una nuova volontà ed una nuova capacità di compiere quel volere che dio ha posto nei nostri cuori e allora e allora camminiamo con timore e tremore ma anche con piena convinzione che nel cuore di ciascuno di noi di ciascuno di noi c'è già al presente adesso tutta la potenza tutta la gloria tutta la grazia tutta la comunione con dio che serve per poter essere strumenti che possono portare una differenza eterna nella vita degli uomini adesso c'è in te solamente solamente disponiamo la nostra vita non secondo il nostro egoismo ma secondo la volontà che c'è in dio per compiere il bene che egli ci ha comandato e voglio farvi solo lasciarvi solo un'ultima riflessione che vi accompagni nella meditazione di questa parola che spero vogliate tornarci sopra con la mente un tempo eravamo nelle tenebre e tutto ciò che potevamo fare non era altro che peccato ogni pensiero ogni parola ogni sentimento ogni attitudine era peccato in noi perché perché non c'era altro che quello oggi noi non siamo più in quella condizione dio ci ha liberato e ci ha messo nel regno glorioso del suo figlio dove il bene la giustizia l'amore regna nient'altro tu sei figlia figlio di dio in questo regno e come tale non puoi che fare il il bene a questo sei chiamato sottrarti a questa chiamata è peccato signore non mi voglio sottrare a questa chiamata no non posso sapete perché perché non ho non avrò due possibilità non avrò una seconda vita le opere o le compio adesso o passeranno per sempre quelle opere che dio vuole che io e te portiamo a termine per cui io non dirò semplicemente se dio vuole come una forma rivelenziale che fa riferimento solo al modo in cui compongo una frase ma la mia vita dirà se dio vuole perché passerò il mio tempo ricercando il suo volere ricercando i suoi sentimenti ricercando le sue opere perché io voglio adempiere la chiamata e la che mi è stata rivolta perché al di sopra d'ogni cosa io ho imparato che la vera ricchezza sta in poche semplici parole ben fatto mio fedel servitore ma non ben fatta la mia volontà ben fatta la sua volontà voglia il signore spingerci ad essere operatori di giustizia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti